La nostra autostima è dettata da fatti oggettivi e anche da fatti soggettivi ovviamente. I fatti oggettivi sono le esperienze che viviamo. Se abbiamo tante esperienze di successo la nostra autostima tenderà a migliorare, se abbiamo tante esperienze di insuccesso la nostra autostima tenderà a peggiorare. Ma è dettata anche da fatti interiori, da come noi consideriamo le stesse esperienze che viviamo. Se impariamo a considerarle come se fossero un insegnamento, anche se negative potrebbero comunque contribuire ad aumentare l'autostima. Ma diversi sono gli aspetti quindi che governano l'autostima. Quali sono i trucchi per migliorarla? I trucchi per migliorare l'autostima sono quelli di migliorare se stessi in ogni aspetto, in ogni nostro aspetto. Il presupposto di fondo è che noi possiamo migliorare in qualunque aspetto della nostra vita. Possiamo migliorare ad esempio il nostro aspetto fisico, il nostro aspetto mentale, il nostro aspetto emotivo. Quindi dobbiamo lavorare in modo tale da migliorare ognuno di questi aspetti. Migliorando questi aspetti sicuramente migliorerà l'autostima. Il primo passo, il primo trucco è quello di fare un esame di quelli che noi riteniamo essere i nostri punti di forza e invece quelli che riteniamo essere i nostri punti di debolezza. I nostri punti di forza dobbiamo consolidarli e quindi prendere atto che abbiamo questi punti di forza, utilizzarli e questo fa sì che la nostra stima comunque inizi a consolidarsi. E poi dobbiamo uno per uno ad andare ad agire sui nostri punti di debolezza per migliorarli. Perché noi possiamo migliorare qualunque cosa. Se ad esempio crediamo di non avere un aspetto fisico piacevole, dobbiamo tenere presente che in qualche modo, anche poco, ma possiamo comunque migliorarlo. Possiamo migliorarlo attraverso l'esercizio fisico, la palestra, attraverso prendersi cura di se stessi, migliorare e scambiare, ad esempio, il nostro look, il nostro abbigliamento. Possiamo farci aiutare in questo o comunque cercare di investire su questo. Ovviamente curare l'aspetto fisico vuole anche dire prendersi cura del proprio fisico a 360 gradi, quindi anche dalle piccole cose, avere le mani curate, i piedi curati, insomma curare un po' tutto il nostro insieme. E questo ci porterà a un miglioramento. Ogni volta che registriamo un miglioramento è come se mandiamo un segnale alla nostra parte emotiva guarda che stai migliorando, guarda che hai fatto un passo avanti. L'autostima automaticamente si rafforza. È un trucco perché poi di fatto l'autostima non deve dipendere neanche dal nostro aspetto fisico, ma è un modo per migliorarla. Ad esempio seguire anche una dieta sana, insomma, per migliorare il nostro peso forma. E tutto questo migliora. Anche l'ambiente in cui viviamo è molto importante. Quindi cercare di rendere l'ambiente dove siamo più ordinato, pulito, confortevole, può migliorare comunque la stima che abbiamo in noi stessi, perché abbiamo fatto qualcosa di importante per noi. Poi dobbiamo migliorare l'aspetto emotivo. L'aspetto emotivo è legato soprattutto alle relazioni sociali che siamo in grado di gestire. Per cui è importante, diciamo, poi frequentare ambienti diversi. L'importante è non accanirsi su un ambiente. Se andiamo in un posto, frequentiamo delle persone che non ci piacciono, è meglio lasciare perdere. Cioè eliminate dalla vostra vita le persone che vi fanno stare male, le persone che non vi danno comunque gioia. Vanno eliminate perché contribuiscono a ridurre la vostra autostima. Soprattutto le persone che sono sempre incazzate depresse. Tenderanno a far incazzare e deprimere anche voi. Molto meglio circondarsi di persone positive, ottimiste, gioiose, perché iniziano a trasferire questa loro positività anche su di voi. E poi diciamo che l'aspetto emotivo migliora se noi viviamo quotidianamente delle emozioni. Quindi lo stile di vita che abbiamo, e il giorno d'oggi ci sono possibilità per tutti di trovare qualcosa che ci appassioni. Cioè avere un sogno, un desiderio, una passione, ci motiva molto a vivere e quindi contribuisce molto ad arricchire la nostra autostima. Seguendo questi piccoli accorgimenti è facile, diciamo, andare verso la direzione giusta, quella del miglioramento personale a 360 gradi e quindi automaticamente migliorerà e crescerà anche la nostra autostima. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!